Rina scriveva così Per lui la questione meridionale Non è stata davvero buona poi Il nonno di mia nonna era abbracciante Disoccupato e morto di fame Un giorno fu preso a lavorare Nel tavoliere come stagionale Non sapeva che si era scioperato Per questo si trova morto avanzato Per lui la questione meridionale Non è stata davvero buona parte Un giorno fu preso a lavorare Il padre di mio padre non aveva Nemmeno terra dove lavorare Allora lui decise di occupare Un po' di terra incolta nell'orneo Ma un poliziotto con la camionetta Invece appensi la sua bicicletta Per lui la questione meridionale Non è stata davvero buona parte Il mio padre è stato emigrante Io dico è stato perché non c'è più Non voglio ricordare come fu A voi non interessa e a me fa male Non so neppure dove sei finito Perché non stai seguita che qualcuno Per lui la questione meridionale Non è stata davvero buona parte Non è stata davvero buona parte Per giudizi un professore che sveglia con cura la questione del mezzogiorno in breve è diventato un grosso personaggio, un deputato, dirigenti, corsi e scuole d'arte, gli entrano quattrini da ogni parte. In cui la questione meridionale è stata certamente un buon affare, in cui la questione meridionale è stata certamente un buon affare. In cui la questione meridionale è stata certamente un buon affare, in cui la questione meridionale è stata certamente un buon affare. In cui la questione meridionale è stata certamente un buon affare, in cui la questione meridionale è stata certamente un buon affare. In cui la questione meridionale è stata certamente un buon affare.